buonasera e benvenuti nella mia cucina la cucina di a tavola con silvia che faremo questa sera di particolare pochissimi ingredienti pochissimi ingredienti presente sono solo due pistacchi c'è vero c'è anche il liquidino questa sera faremo una pasta di pistacchio una crema di pistacchio che ci servirà per la farcitura del pane fatto al pistacchio ok detto ciò ingredienti 150 grammi di pistacchi di bronte mi raccomando cioè quelli non salati quindi quelli non salati e soprattutto quelli già sgusciati 75 grammi di zucchero a velo andrete a unire direttamente così come se niente fosse proprio e 15 ml di olio di semi meglio da l'acchili che dobbiamo fare niente di particolare dobbiamo solo perderci un pochino di tempo sarà un problemino all'inizio perché se non avete un mixer che frulla molto bene dovete stargli dietro tirarlo giù con la palettina eccetera come facevamo con quello con le nocciole però vi posso assicurare che il risultato sarà strepitoso andiamo al mixer fino a che non diventerà una crema a fra poco non proprio poco a fra un bel dopo ragazzi la ricetta è fatta guardate che bel colore dopo mezz'ora di frullatore c'è voluto un po perché per renderla una crema ce ne vuole un po ce ne vuole soprattutto io ho usato quelli sgusciati che sono più secchi di quelli per normali no che sono già più gonfi più e quindi ho dovuto aggiungere un cucchiaio raso di olio sempre sempre l'olio di semi in più però vi posso assicurare che è una cosa speciale e qua ovviamente ci sarà bisogno dell'assaggio non piangere ragazzi sta piangendo è buonissima perché si sente il pistacchio veramente e non ci sono né coloranti no niente né altre sostanze particolari no no quindi non è una crema vera e propria come la nutella no 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 è una pasta di risato è leggermente meno spalmabile ma la bontà è assoluta provate a farla e fateci sapere come è benvenuta vi aspettiamo alla prossima ricetta ciao ciao